l'8076 libri dei francobolli d'italia sono quattro volumi dal 1989 90 91 e 92 con già dentro i francobolli messi al loro posto ci sono i foglietti campionati del mondo questo è il 91 qui i francobolli sono ancora da mettere al loro posto qua ci sono i francobolli qua ci sono le taschine e qui c'è il libro ovviamente con i francobolli da applicare andare con l'ultimo volume 1992 questo invece i francobolli ce li ha già al suo posto al loro posto c'è pure l'emissione congiunta guarda c'è il colombo italiano non solo il colombo i foglietti colombo d'italia se volete altre informazioni scrivete a filatelli a chioccio o a quattrobaiochi.com